Il Casoria sbanca il campo del Real Albanova, abbiamo ai nostri microfoni, mister Lamanna. Oggi abbiamo fatto come al solito una buona gara, anche se per un certo periodo abbiamo giocato in dieci, però è stata una partita molto dura e abbiamo sofferto per vincere questa partita oggi. Sapevamo che incontravamo una buona squadra e pur rimaneggiati abbiamo portato in porto il risultato. Infatti non era difficile anche perché il Casoria aveva diverse assenze eppure i ragazzi che sono scesi in campo hanno dato il cuore e sono riusciti appunto a portare a casa un risultato importantissimo. Ma noi lo sappiamo, abbiamo una rosa ampia e sinceramente ci mancava qualcuno ma chi sostituiva non è che è da meno. Ci abbiamo una buona rosa e per questo i ragazzi che sono entrati hanno giocato benissimo. Dopo l'espulsione di Rivitti, dopo praticamente due minuti di gioco della ripresa, hai tenuto in campo comunque tutti i giocatori e poi solo in un secondo momento hai sostituito Ruffo inserendo Calenda, quindi mettendo maggiore quantità. Però in un primo momento la squadra ha continuato in qualche modo a giocare e non solo a difendersi. Sì, eppure per far capire alla squadra che noi volevamo vincere, volevamo continuare la striscia di vittorie perché se toglievo qualche attaccante o qualche esterno la squadra intredeggiava e noi davamo qualcosa e non volevo far capire alla squadra che intredeggiavamo, invece dovevamo giocare sempre l'attacco perché volevamo vincere questa partita. E poi Maione ha inventato un gol straordinario. Maione quando ci abbiamo delle difficoltà ci dire sempre fuori, è un ragazzo sprecato in questa categoria, come tanti. Abbiamo fatto bene con tutti, tutti quelli che stavano in panchina, quelli che sono entrati, tutti abbiamo fatto bene oggi, bene, bene, bene. E domenica si chiude il giorno d'andata con la squadra del comprensorio Casal Nuovese. Sì, domenica abbiamo un'altra gara difficile come tutte in questo girone, un girone molto duro. Adesso godiamoci questo primato oggi perché oggi stasera, fino a domani siamo primi e poi dalla prossima settimana pensiamo agli altri. E volevo fare anche, se mi permetti, un ringraziamento ai tifosi che sono sempre presenti e sempre ci incintiamo fino alla fine. Grazie veramente ai tifosi del Casoria.